Comune di Napoli e Istituto Autonomo Case Popolari mettono a punto un piano di recupero delle morosità di migliaia di inquilini non in regola col pagamento dei canoni. È l'oggetto del protocollo d'intesa, siglato oggi a Palazzo San Giacomo, dall'assessore al patrimonio Sandro Fucito e dal commissario straordinario degli ACP di Napoli, Carlo Lamura, che consentirà agli affittuari di rateizzare fino ad un massimo di 10 anni le morosità pregresse. Rispetto al piano precedente, la novità è che anche gli inquilini degli ACP, come quelli del Comune, non avranno più l'obbligo di versare un anticipo del 25% sugli arretrati. In molti casi, infatti, l'impossibilità di corrispondere l'acconto determinava il rischio di decadenza e la perdita dell'alloggio. Con questo protocollo, per il quale ringraziamo gli ACP, noi equipariamo le situazioni e offriamo una prospettiva di riabilitazione e di regolarità a migliaia di cittadini napoletani per quanto inquilini degli ACP. Noi, sostanzialmente, in cambio, l'Istituto Case Popolari consentirà ai suoi inquilini, che hanno acquisito nel tempo morosità ingenti, di poterle spalmare in 10 anni senza avere anticipazioni da dare nel tentativo di recupero di questa morosità. L'intesa nasce da una realtà allarmante. Dei 34.000 inquilini gli ACP, solo la metà è in regola con i pagamenti, e fra gli affittuari, dei 24.000 alloggi del Comune, si rileva un tasso di morosità pari al 20%. La decisione di dilazionare gli arretrati risponde quindi alla situazione di disagio economico e sociale vissuta oggi da molte famiglie. Il protocollo prevede la possibilità per il Comune di applicare agli ACP una tassazione agevolata nella riscossione di tariffe imposte e tributi. L'Istituto si impegna dal canto suo ad investire queste somme risparmiate in manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni di edilizia sociale. Questo accordo sostanzialmente impegna anche il Comune che potrà evitare di fare altri adempimenti amministrativi, cioè la decadenza per i morosi, gli sfratti, gli sgomberi e quant'altro.